Per arrivare al gol, magari in maniera un po' inconsueta, visto che l'1-0 lo firma Paganin con un tiro da 25 metri. Al 41esimo scocca l'ora del 2-0, straordinario a solo di Anglomà e assist sublime per Zamorano. Il Cileno gira facile in rete. Nel secondo tempo lascia Elia gli ultimi 10 minuti e l'Inter prende subito gol. La bomba di Cozza trova un grande pagliuca. Il tiro seguente di Muzzi viene accompagnato in rete da Anglomà. 2-1